Ciao a tutti ragazzi, tutto bene? Oggi sono qua perché volevo, visto che c'è un contest da fare per, cioè dei video da mandare da PokéShiny e chissà che sarà il vincitore Oggi volevo, cioè, farvi vedere io le mie Lamikard dei Pokémon Sono miste, 2005, 2006 e altre del 2004 Faccio un po' veloce perché la batteria, come sempre, occupa troppo, altrimenti Bellissime queste carte Queste sono quelle più belle per me Ecco, qua c'è una carta del 2005 Carte stupende Paccato che l'Aeribus non le faccia più Io vorrei le, cioè Facersi, invece Sono messe un po' di disordine Ne mancano anche un po' Però, diciamo che sono proprio belle Belle un'idolina Ho messo le drift, visto che sono sacre Faccio un po' veloce, se no Proprio belle, ragazzi Carte stupende Peccato che Opla Se anche voi le avete Sono proprio belle Cioè, era bello anche scambiarsele Qualcune Ma quante carte Le ho acquistate da un ragazzo online Non le aveva tutte Però per fortuna C'è un bel po', dai Meglio che niente 2005 C'è tante carte, ragazzi Ah, così si vede un po', ragazzi Un po' sfocatino, ma un po' si vede Carte stupende Proprio belle Proprio belle Qua mi manca la Wall Comunque Poche scene Non ho visto Utilmente, ragazzi Continuate a guardare i suoi video Perché Fai dei video Veramente stupendi E poi C'è Trovo anche delle carte Veramente cool Io ho attento sempre Nuovi video Veramente Bravo Complimenti Sono serie un po' miste, ragazzi Un po' veloci Veramente stupende Io ho contattato le Edibus Spero le rifaccia queste Lamincar Perché veramente Le desidero Che bello Troppo belle Ecco Da qui inizio le carte del 2004 Ne ho pochissime, ragazzi Faccio veloce perché Poco spazio Queste qui Poche prove bellissimo Ma Sono bellissime queste carte, ragazzi Le trovo per sempre Il video finisce qua, ragazzi Ci vediamo alla prossima, magari E Che vinca il migliore Ciao a tutti